Ciao, sono Jennifer. In questo video andremo a fare una sequenza di allungamento. Bene, incominciamo. Mi porto a seduto, gambe belle tese davanti a me, incominciamo a piegare e a stendere le dita dei piedi lentamente, aiutandomi sempre con il respiro. Piego e stendo lentamente. Lo faccio per un paio di volte. Piego e stendo. Bene, ora lo facciamo con tutti e due i piedi, li stendiamo in avanti e li portiamo verso di noi. Con l'espiro stendo bene il collo del piede e con l'espiro li porto verso di me. Espiro, stendo bene il collo del piede. Inspiro, porto verso di me. Espiro, allungo. Con l'espiro lo porto verso di me. E ritorno, sciolgo. Ci portiamo a gambe incrociate, portiamo le mani a terra e piano piano camminiamo con le mani in modo da sciogliere la posizione, portandoci nella posizione di quadrupedia. Le ginocchia sono ben aperte quanto il mio bacino. Allungo bene le braccia in avanti, faccio un bell'inspiro e con l'espiro scendo, portando la fronte il più possibile vicino a terra. Se riesco vado a toccare direttamente la fronte sul tappetino, mantenendo i glutei alti. Siamo nella posizione di Anatasana. Stiamo andando ad allungare le spalle, la parte alta e centrale della schiena. Qui possiamo chiudere gli occhi, respirare profondamente dal naso e con la pancia. Mi lascio andare nella posizione di allungamento. Perfetto, lentamente risaliamo, con un bell'inspiro puntiamo i piedi a terra e con l'espiro andiamo nel cane che guarda in basso. Aggiusto bene la mia posizione, mani ben aperte a terra, ruotiamo leggermente le cosce all'interno, risucchiamo l'ombelico e spostiamo la respirazione della pancia al torace, mento al petto, mi guardo le ginocchia e se riesco l'ombelico. Inspirando, alzo bene la gamba destra in alto e con l'espiro la porto tra le mani, andando in Aja Sancialasana. Inspiro, raddrizzo bene il busto, porto le mani sul ginocchio destro e con l'espiro affondo bene con il ginocchio. Facendo attenzione nell'avere il ginocchio all'altezza della caviglia. Rilasso le spalle, lo sguardo è davanti a me. Stiamo andando ad allungare le anche, le cosce e il dorso del piede. Ora portiamo le mani a terra, pieghiamo il ginocchio e lo portiamo a terra lateralmente. Stendo bene la gamba, sinistra dietro, appoggiando bene il collo del piede a terra. Portiamo le mani accanto al ginocchio destro, ispiro, raddrizzo bene la schiena, lo sguardo è alto e con l'espiro scendo lentamente in avanti, in modo da stendere bene tutta la mia schiena. Il collo e la testa sono morbide. Qui stiamo andando a lavorare sullo psoas, sulle cosce, inguine e sulla schiena. Rilasso, faccio dei bei respiri profondi, chiudo gli occhi e lentamente aiutandomi con le mani mi riporto con il busto eretto. Inspiro, punto il piede sinistro a terra e con l'espiro mi porto nel cane che guarda in basso, aggiustando sempre la posizione. Con il prossimo inspiro alziamo la gamba sinistra verso l'alto e con l'espiro la portiamo tra le mani. Appoggiamo bene il collo del piede destro a terra. Con il prossimo inspiro raddrizziamo il busto, appoggiamo le mani sul ginocchio sinistro e con l'espiro affondiamo bene. Rilassiamo le spalle, rilassiamo il collo, lo sguardo è davanti a noi. La manteniamo per qualche respiro. Bene, portiamo le mani a terra, pieghiamo il ginocchio e lo portiamo a terra lateralmente, stendiamo bene la gamba destra a terra, portiamo le mani accanto al ginocchio sinistro. Inspirando raddrizziamo bene la schiena, sguardo verso il cielo e con l'espiro mi porto in avanti e rilasso, lascio andare il collo e la testa morbidi. Faccio dei bei respiri profondi. Chiudo gli occhi e rimango in ascolto nell'allungamento. Se percepisco qualche tensione la rilasso e lentamente mi rialzo portandomi con il busto retto, inspiro, punto il piede destro a terra e con l'espiro mi porto nel cane che guarda in basso. Aggiustando sempre la mia posizione. Portiamo le ginocchia a terra e mi siedo sui talloni. Piano piano apro un po' i piedi in modo da sedermi all'interno in modo da avere i piedi accanto a me. Faccio un bell'inspiro e con l'espiro appoggio bene i gomiti a terra e scendo con la schiena. Se riesco appoggio tutta la schiena a terra se non rimango in appoggio sui gomiti. Una volta che ho appoggiato tutta la schiena a terra faccio un bell'inspiro e con l'espiro porto le braccia oltre la testa. Se invece sono rimasta con i gomiti appoggiati a terra guardo davanti a me, faccio un bell'inspiro e con l'espiro lascio andare la testa all'indietro. Faccio dei bei respiri profondi. Posso anche chiudere gli occhi e mi lascio andare nell'allungamento. Siamo in supta virasana. Andiamo a lavorare sulle cosce e inguine. E ispirando riporto le braccia oltre il corpo, allungo il corpo e piano piano mi aiuto ad alzarmi con il busto. Sciolgo lentamente la posizione portando le gambe in avanti e muovo lateralmente a destra a sinistra le gambe in questo modo, così da sciogliere un po' le anche. piego, allungo bene le gambe davanti a me, piego il ginocchio sinistro e lo sposto lateralmente in modo da avere la pianta del piede sinistro che appoggia sulla coscia destra. Schiena dritta e inspiro, apro bene le braccia e le porto verso l'alto allungando bene. Porto già all'interno un po' l'ombelico e con l'espiro scendo in avanti. Mi afferro la gamba o il piede. Inspiro nuovamente guardando l'orizzonte, risucchiamo del tutto l'ombelico e con l'espiro appoggiando inizialmente la pancia scendiamo verso la nostra gamba lasciando morbido e rilassato il collo e la testa. e stiamo in gianu shir shasana. Stiamo andando a lavorare sulla lombare e la parte posteriore della gamba. Qui la respirazione passa al torace. Inspiro, guardo davanti a me, alzo bene le braccia al cielo e con l'espiro apro bene le braccia e le porto verso il basso e scegliamo la posizione. Stendiamo bene la gamba sinistra e pieghiamo la gamba destra portando il ginocchio di lato appoggiando la pianta del piede sulla coscia sinistra come abbiamo fatto precedentemente. Inspiro, apro bene le braccia e le porto verso l'alto, allungo, porto già un po' all'interno l'ombelico e con l'espiro scendo. Mi afferro il piede o la gamba, inspiro, stendo bene la colonna vertebrale, guardo verso l'alto, risucchio del tutto l'ombelico e con l'espiro scendo appoggiando sempre per prima la pancia lasciando andare morbida alla testa e al collo. La punta del piede sinistro guarda il cielo e quindi è attiva. Spostiamo la respirazione della pancia al torace e lentamente, inspirando, guardo il piede davanti a me, mi porto con il busto eretto, portando in alto le braccia e con l'espiro apro bene le braccia portandole verso il basso. Sciogliamo la posizione, pieghiamo le ginocchia in modo da avere a contatto le due piante dei piedi, una contro l'altra, portiamo i piedi abbastanza vicino a noi, mi afferro i piedi, raddrizzo bene la schiena con un bel inspiro e con l'espiro piano piano appoggiando prima i gomiti a terra, stendo bene la schiena sul tappetino. Faccio un altro bel inspiro profondo e con l'espiro porto le braccia oltre la testa, insieme in subta badda con asana. Qui andiamo a lavorare sulle anche sulla colonna toracica, sulle spalle. Chiudo gli occhi, mi lascio andare alla posizione, mi rilasso, se percepisco qualche tensione la lascio andare. Respiro sempre con la pancia, respiri profondi e lascio andare nell'allungamento. Inspirando dal naso ed espirando sempre dal naso, lentamente. Faccio un bel inspiro portando le braccia lungo il corpo, mi porto lentamente in un fianco, mi aiuto con le mani a rialzarmi portandomi seduta. Allunghiamo bene le gambe davanti a noi, apro un po' le cosce per aderire meglio a terra, le gambe sono unite, afferro con le due dita l'interno degli alluci dei piedi, inspirando, stendo bene la colonna, raddrizzo bene la colonna e con l'espiro mi guardo le ginocchia, mantenendo la schiena bella dritta. Rissucchiamo l'ombelico, quindi la respirazione della pancia passa al torace. Rimango per qualche respiro. Faccio un bel inspiro profondo e con l'espiro provo a scendere appoggiando la pancia sulle cosce. Provo a scendere un pochino, guardando sempre le ginocchia e mantenendo sempre la schiena dritta. Faccio un altro bel inspiro profondo e con l'espiro provo a scendere ancora un po', lasciando sempre morbida la testa e il collo, guardando le ginocchia. Faccio un bel inspiro profondo e con l'espiro risalgo e sciolgo la posizione. Rilasso il collo, rilasso le spalle. Perfetto. Ora ci portiamo a gambe incrociate, portiamo le mani a terra, camminiamo con le mani in modo da sciogliere la posizione. Ci portiamo sulle ginocchia, sempre aperte quanto il nostro bacino. Faccio un bel inspiro, ruoto bene il braccio destro e cerco di appoggiare la mano sul piede destro. E con l'espiro ruoto l'altro braccio, portandolo sempre sui piedi. Se ho difficoltà a portare le mani sui piedi, posso appoggiarle tranquillamente all'altezza dei reni, nella zona lombare. Faccio un bel inspiro e con l'espiro lascio andare la testa all'indietro. Siamo in Ustrasana, la posizione del cammello. Andiamo a lavorare sulle cosce e sulle anche. Con un inspiro ruoto il braccio destro e così in automatico il sinistro, portandomi seduta sui talloni. Mi porto seduta a terra, porto le gambe in avanti, porto i piedi con la pianta dei piedi l'una con l'altra a contatto, un po' lontani dal corpo questa volta. Portiamo all'interno le braccia, faccio un bel inspiro, porto all'interno l'ombelico, stendendo bene la schiena e con l'espiro scendo verso il basso, lasciando andare morbida la testa e il collo. Nella posizione di Kurmasana, nella posizione della tartaruga. Stiamo andando a lavorare nella colonna lombare. Respiri profondi, spostiamo la respirazione al torace, chiudiamo gli occhi e ci lasciamo andare. Dei bei respiri profondi. Se sento qualche tensione, la lascio andare. E lentamente, inspirando, risalgo piano piano. L'ultima cosa che risale è la testa. E sciolgo piano piano la posizione. Ora apriamo bene le gambe. I piedi sono attivi, le punte guarda il soffitto. Portiamo all'interno la gamba sinistra, appoggiando la pianta del piede sulla coscia destra. Appoggiamo il braccio destro con il palmo della mano rivolto verso l'alto sulle cosce. Inspiro, alzo il braccio sinistro e con l'espiro allungo lateralmente. Il piede destro è attivo. Cercando sempre di fare in modo che le spalle ruotino verso il cielo. Siamo in un pavista con asana, laterale. Stiamo andando a lavorare sull'interno coscia, ginocchia e lato posteriore della gamba. Faccio un bell'inspiro e con l'espiro sciolgo la posizione, stendo bene la gamba sinistra. Ora portiamo all'interno la gamba destra, come abbiamo fatto precedentemente. Appoggiamo il braccio sinistro con il palmo della mano rivolto verso l'alto sulle cosce. Inspiro, alzo bene il braccio destro e con l'espiro allungo, proiettando sempre le spalle verso il cielo. Il piede sinistro è attivo, la punta guarda al soffitto, il cielo. Faccio dei bei respiri profondi, rilasso la testa e il collo. E inspiro, ritorno lentamente e con l'espiro porto il braccio verso il basso. Ora ci portiamo sulle ginocchia, portiamo le mani sotto le spalle, inspiro e con l'espiro mi porto nel cane che guarda in basso. Aggiusto bene la mia posizione. E lentamente ci portiamo nella posizione di Dandasana, la panca. E con l'espiro scendiamo a terra con la pancia a terra. Scendiamo bene le gambe, appoggiamo gli avambracci a terra. I gomiti sono proprio sotto le spalle, vicini al corpo, mano ben aperta a terra, schiena dritta. Guardiamo davanti a noi, ruotiamo i talloni all'interno in modo da attivare le gambe e i glutei. Siamo nella posizione della sfinge. Stiamo andando a lavorare sul busto, l'allungamento del busto. Perfetto. Ora stendiamo bene le braccia davanti a noi, appoggiando bene le mani a terra. Le braccia sono belle stese. Faccio un bel inspiro e con l'espiro porto bene, alzo i piedi, cerco di puntarli il più vicino possibile a me e porto indietro la testa, in modo quasi da voler toccare con le punte dei piedi la testa. Siamo nella posizione della foca. E rilasso, porto i piedi a terra, mi appoggio con la guancia sul tappetino, le braccia sono lungo il corpo, chiudo gli occhi, mi rilasso un attimino. Faccio dei bei respiri profondi. Respiro con la pancia. Bene. Ora, piano piano, ci portiamo nel fianco, nel fianco destro. Ci appoggiamo, appoggiamo la testa sul braccio. Portiamo la gamba sinistra e il piede sinistro in avanti, con la gamba bella tesa. Faccio un bel inspiro, piego il ginocchio verso di me e con l'espiro, con la mano sinistra, mi afferro la caviglia. E rimango in questa posizione per qualche respiro. Stiamo andando ad allungare le cosce. La testa appoggia bene sul braccio destro. Ci rilassiamo. Faccio un bel inspiro e con l'espiro sciolgo la posizione. E lentamente mi porto nel fianco sinistro. Come prima, appoggio la testa sul mio braccio sinistro. Porto in avanti il piede destro, stendendo bene la gamba. Con un inspiro piego il ginocchio sinistro e mi afferro con la mano destra la caviglia. E mi rilasso, mi lascio andare nella posizione. Chiudo gli occhi, ascolto l'allungamento. Faccio dei bei respiri profondi, ispirando dal naso ed ispirando sempre dal naso. E i bei respiri profondi con la pancia. Faccio un bel inspiro e con l'espiro sciolgo la posizione lentamente. Ora mi porto con la schiena a terra. Piego le ginocchia portando i piedi a terra vicino ai glutei. Alzo il piede destro e lo appoggio sopra al ginocchio sinistro. Faccio un bell'inspiro, stendo bene la gamba sinistra. La afferro con le mani o sulla caviglia o sul polpaccio, dove riesco. E con l'espiro lo porto verso di me e alzo anche la testa. In modo da portare la testa vicino alla gamba destra. E stendo bene. Qui andiamo a lavorare sulla colonna lombare e sulla parte posteriore della gamba che stiamo andando a stendere. E lentamente appoggio la testa a terra, sciolgo la posizione portando i piedi a terra. Facciamo la stessa cosa appoggiando adesso il piede sinistro sul ginocchio destro. Alzo bene la gamba destra, stendo bene la gamba destra, cerco di afferrarmi la caviglia o il polpaccio. Inspiro e con l'espiro avvicino la gamba, portando la testa il più vicino possibile al ginocchio. In questo modo, in modo che la zona lombare si alzi un po' da terra. Resto per qualche respiro. E lentamente con l'espiro sciolgo la posizione. Porto le ginocchia al petto, le abbraccio e con l'espiro le stringo il petto e mi massaggio un po' la schiena destra e sinistra. Chiudo gli occhi, respiro con la pancia, mi massaggio la schiena. E ora portiamo le gambe stese a terra, un po' distanti l'una dall'altra, facendo cadere i piedi all'esterno. Le braccia sono lungo il corpo, con i palmi delle mani rivolti verso l'alto, un po' distanti. Chiudo gli occhi, faccio dei bei respiri profondi, ispirando dal naso e fuori dalla bocca. Dei bei respiri profondi. E mi lascio andare nel rilassamento. Vi ringrazio e alla prossima lezione. Namaste. Vi ringrazio e alla prossima lezione.